Grazie. Ha chiesto la parola per richiamo al regolamento il deputato Sibilia. La ringrazio Presidente. Io volevo porre l'attenzione in merito all'articolo 60 del regolamento relativamente alle affermazioni diffamatorie, turpilochiose e facenti appello alla violenza, quindi irripetibili, da parte del deputato Cera nei confronti di alcuni deputati del Movimento 5 Stelle. Lo dico adesso perché dalle agenzie di stampa ho appreso che il deputato Cera conferma l'accaduto e ne mistifica l'origine dicendo che un parlamentare 5 Stelle si è avvicinato minaccioso verso Cesa e io l'ho difeso. Io faccio appello alla Presidenza che può tranquillamente testimoniare che non è stato assolutamente questo l'andare dei fatti e quindi mi appello all'articolo e spero che se ne possa discutere al prossimo ufficio di Presidenza utile. Inoltre invito il deputato Cera a non difendersi e schermarsi attraverso la stampa ma avere un dibattito civile in aula come sicuramente sarà in grado di fare. Ha chiesto la parola il deputato Andrea Romano, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Vorrei ricordare all'Aula e ai colleghi del Movimento 5 Stelle che il direttivo del gruppo di scelta civica ha espresso proprio poco fa rammarico per l'incidente che è accaduto in aula e ha ricordato a tutti i suoi componenti con il professor Onorevole Cera che naturalmente per rispetto dell'istituzione l'uso del linguaggio come quello che è stato usato è dare terezzi sconveniente. Abbiamo altresì sottolineato che questo deve avvenire anche nei confronti di atteggiamenti provocatori come quelli che sono stati utilizzati questa mattina da alcuni con lei. Questo va ricordato sottolineando come sottolineo il nostro rammarico a fronte di questo incidente che è stato confermato dal direttivo per l'appunto del gruppo di scelta civica. Grazie.